In questo video affrontiamo l'inserimento delle note nella battuta utilizzando la barra superiore che è quella deputata alla selezione dei valori delle note per notazione musicale. Il metodo più logico è quello di partire selezionando da sinistra a destra come criterio generale. Quindi iniziamo col selezionare la N e poi andiamo a scegliere il valore della nota da inserire. In questo caso vanno bene le semi minime per il nostro esempio. Poi ci portiamo sul pentagramma nella battuta dove desideriamo inserire la nota, nel nostro esempio la prima, e posizioniamo il cursore sulla riga o nello spazio a seconda della nota che vogliamo scrivere. Dopodiché clicchiamo e la nota viene scritta sul pentagramma. Avanza automaticamente la barra da una battuta all'altra, quindi come vedete è possibile scrivere le note in fila senza preoccuparsi di spostarsi più di tanto. Questo se vogliamo procedere inserendo tutte le note dello stesso valore. Se vogliamo cambiare il valore ci portiamo in alto, selezioniamo un nuovo valore e andiamo avanti con lo stesso metodo. Caso in cui volessimo baleare il valore delle note già scritte, andiamo a deselezionare la N, quindi sempre il criterio logico di partire da sinistra, procedimento da sinistra a destra, quindi deselezioniamo la N di notazione e in questo caso la nota è ancora evidenziata in azzurro, quindi io sto operando su questa nota particolare, vado a selezionare il valore che desidero attribuirle. Per esempio la facciamo diventare una croma e viene trasformata. Se volessi lavorare con cambiare il valore delle altre note, semplicemente vado a posizionare il cursore, evidenziare la nota che voglio trasformare, dopodiché vado a selezionare il valore che desidero attribuire a questa nota. Naturalmente il software inserisce automaticamente le pause a completamento della battuta, tuttavia questo se io seleziono un valore inferiore rispetto a quello scritto. Se come vogliamo vedere questo esempio, in questa battuta volessi aumentare il valore di questa nota e trasformarla in una nota da quattro quarti, quindi vado in una semibreve, quindi vado a cancellare le altre, perché nel momento in cui aumento il valore di questa nota, le altre vengono automaticamente cancellate. Quindi bisogna prestare un po' di attenzione e stare attenti a questa cosa, perché le note non vengono spostate in altre battute e vengono poi cancellate. Quindi io qui se seleziono la prima nota di ogni battuta, chiaramente le altre vengono annullate. Posso naturalmente sempre tornare indietro, oppure anziché selezionare le note con il puntatore, se mi trovo più comodo, posso utilizzare le frecce di spostamento laterale sulla tastiera del computer e quindi vengono evidenziate. Questo è un modo magari più pratico se si ha uno schermo a bassa definizione, oppure se ci sono molte note e quindi si vuole essere più sicuri di quello che si seleziona.